Ci sono novità in arrivo per il Milan. Il Milan è sicuramente uno dei protagonisti del calciomercato europeo. Vieni con me a seguire le notizie più importanti pubblicate su Milan Official. Ciao tifosi rossoneri! È bello averti qui sul canale ufficiale delle notizie Acquistare Milan. Pieno di novità per te! Non perdere tempo e iscriviti al canale per non perderti le novità del Milan. I rossoneri dovranno continuare e continuare a lavorare molto per dare la rosa migliore possibile a Stefano Pioli. Alguem necessariamente terra che che gara o centro a posa saída de imprestimo de gabbia para o viglia real. Ad Aisnomes circulandono un momento, l'Englet do Barcellona e Stevedo Montpellier. I rossoneri vogliono rafforzare la squadra per non deludere i propri tifosi. E tu fan, qual è il settore più fragile in questo momento? Commenta lì e seguimi per non perderti nessuna novità rossonera.